caccia raga quindi Borgo, Flande Borgo io direi mi piace di più Borgo che Grandi Magazzini è che tutte le città sfuturistiche non hanno più legno praticamente boh a me non mi piace la città di Pinnacoli eh, Pinnacoli mi piaceva più prima sinceramente, aveva i palazzi migliori anche a me cioè erano più eh il palazzo è quello del pesce era quello fighissimo eh quello che stava qua guarda verso la fine qua l'ho pingato ah quello là quello mi piaceva tantissimo cioè io mi mettevo sopra e counteravo con un cecchino otticele sotto eh io me ne devo andare da te perché non ho trovato niente ho vincito di vita anch'io eh c'ho un piccone però picconiamolo 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 è finita ma 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 è cattivo no è cattivo è cattivo sono nemici sono nemici ma sparali spara un po' che ci ha ucciso è un finocchio tutti noi dov'è? è qua dentro è una ascoltate di nuovo è a sinistra alla foce è il pompa è una luce a lame luce a lame oh bro vai 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 lo stai animando veloce 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 vai a sinistra sinistra dietro sotto pusha pusha come un dannato vai sono merita ci sta l'amico da qualche parte dove è l'amico l'amico è morto no l'amico l'ha rianimato mi sa grazie delle nostre schede tranquilli tanto si prendono da sole è morto prendi le schede prendi le schede prendi le schede prendi le schede vattene scusa fallo morire prendi le schede no 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 secondo me doveva fare farlo finire prendere alle schede e andarsene lontano eh credo cioè io almeno quando c'è 350 punti gioco così occhi ti segue su instagram alessandra ancora non ho capito come ti chiami vabbè chi è che non seguo occhi su instagram Io lo seguo Ma povero Ma povero Leonardix Non prendiamo la sua scheda Ma ciò non è corretto raga Tutte quelle foto da fico che posta Otti sopra il suo Instagram Vero Vero Io la prima volta che ho giocato Con voi, sai quando è stata? Quando Era in season 3 Stava anche zu Boia Io non è che mi ero Non è che mi ero citata di più Di più Boia In quel tempo il nostro canale Spaccava, era uno dei pochi di Fortnite In quei tempi c'era Wizazzo Che stava nascendo come YouTuber Come streamer Non c'era Blazer tra i coglioni Non c'era Mattiz, non c'era Martex Mattiz aspetta, qual è quello là? Che fa di solito le mappe troll Xyuder c'era sempre Xyuder c'era sempre Ma Xyuder è sempre stato un personaggio strabravo Io Xyuder a lì Non l'ho mai seguito sinceramente Non lo dico sinceramente Io vi voglio raccontare come ho conosciuto Xyuder Avevo 2000 iscritti Quindi non facevo visual Cioè era un po' più Lo facevo ancora per la passione al tempo Esatto E mi ricorderò sempre che Luca Io in quei giorni Conobi Luca di Shikokujin Ormai ci sentivamo da mesi e mesi E tipo vedevo le live di questo Xyuder Che era un personaggio Un trentenne che va a video su Clash Royale Ed è tutto scemo E io dico Vecchio fidati che questo farà strada E dopo Quando noi siamo spaccati su Youtube Anche lui ha spaccato su Youtube Io veramente mi ricorderò sempre questa cosa Che gli avevo detto Ma io la prima volta che mi chiede Sono morto da ridere Ho guardato la sua faccia E ho detto Chi segue Octi live Sa perché Octi ha creato il canale Youtube Esatto Bravo Tu lo sai Perché tu Un tuo zio ti riprendeva di continuo E quindi Ti è venuta sta passione Sì di riprendermi così Nella mia vita mi riguardo Così tra 40 anni Io mi riguardo questi video Dico Ah mi ricordo quando non facevo visuale Era un povero del cazzo Ma chi è il tuo iscritto preferito Bro Ma chi è il tuo abbonato iscritto preferito Dai Harley è la mia preferita Harley rimarrà sempre La mia preferita Ultimamente Oh raga dietro Raga dietro Madonna mia Ma non ha serato Ma di Dio Grazie di Dio Non mi sembra corretto Sono caduto Dai finiamola subito Così non riusciamo a fare un'altra Raga dai Sì Oh cosa dovresti dire Sarà su di me Ammazzati Ci li ha ammazzati tutti Poi ci sono Ti da dietro Che se li potrebbe ammazzare No non tutti Di più Che 37 che gli ho fatto Ma Dio Acti 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 Ce li hai tutti da dietro Perché mi dobbiamo buttare in due Ma Dio Facciamo un'altra partita Dai Io Cari il nuovo pompa Ma no poco Ma tanto Ma è forte Oh Stai buono Stai buono Che partano qua i santi Viene blu E mi stringe la mano Ma lo sai che in un campo di grano? Cosa cosa cosa? Cos'è che fai in un campo di grano? Io ti ho visto le tue storie Delle 2 e 24 del mattino Ho visto Quella di oggi? No Quando scusami Eh ho visto una sera Delle 2 del mattino Non me la ricordo più Quando ho visto oggi Non lo so E cosa facevo? Eh stavi con degli amici Le pure taggati Non me la ricordo Eh vabbè ma le faccio ogni sera Praticamente le storie Alle due Sono sempre lì Ti stavi tipo Anche in autobus Stai in una parte Allora era ieri Era l'altro ieri Eh che cosa qua Qua 15 ore fa Grande ho sopanato Grande Quanto Nella season 3 di fornite C'erano le skin C'era il nuovo battle Passi Io facevo un sacco di visual Eh io non c'è più spazzolata Ma la vendetta di Omega Quanto è visual ha fatto? In totale Sì quella specie di film Là che hai fatto Con degli youtuber 150 Ma erano tempi diversi Adesso se uno prova A rifare una roba del genere Non fa visual A me piaceva pure Mi piaceva pure Come location Ho anche boschetto Bollaterante Era bella alla fine dai In che senso Come location Era bella Come Era fatto graficamente Era bello Aspetta aspetta Cosa cosa Hai detto Eleonardix Eh la doppietta Aveva il medino Molto più piccolo Del nuovo pompa E faceva di più Eh è chiaro Però vabbè Però aveva due colpi Ma quando è in testa Guarda io mi avvicino Ma fa 27 Ma per favore Dai Devi essere lì Attaccato Raga avete ancora 7 minuti Quindi in pratica Una partita Ci buttiamo all'hande Bene Facciamo una cosa Qua Busciamo la gente Ne facciamo altre due Dai al massimo Subito Raga facciamo così Ci buttiamo Moriamo E poi Iniziamo Dai 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 No 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 Dai Esatto Rise Esatto Rise Proprio Quello Ciao Ciao Che sono sempre In live Ma non scrivo Mai Trollolollo Tom Scrivi di più Così YouTube Spara Alla live Capisci Ha fatto 8.899 Visual Ma oggi Il mio canale Boh è morto Oggi Non faccio più visual Come l'estate scorsa Il mio canale L'estate muore E poi per riprendersi Ci metto fino a novembre Boh vabbè Capito Inizzerò Inizzerò a portare i video fake Anch'io Tipo Truffo Su salva il mondo Oppure Quello si Dove riportare A tratuno Ma io voglio capire A tutti voi che volete Che io porti Il salvo al mondo Ma che cazzo Volete che porti Il salvo al mondo Che conto Non so se Il salvo al mondo Eeeh Gli scudi antitempesta In che senso Gli scudi antitempesta Che compri di monte Spago A me che gli interesserebbe Sinceramente Boh anche dei miei amici Che ti seguono Interesserebbe Vedere che cose Esattamente Eeeh Una volta mi ricordo Che avevi fatto un video Quando stai con la masa 1 Stai facendo lo scudo Antitempesta Ehm A me è piaciuto Sinceramente Quello là Come video Eeeh Un video Niente male a me Poi salva il mondo Piace quindi Poi fai una cosa Su youtube Eeeh C'è su instagram Eeeh Ma il discorso è questo La gente non sta mai Cosa vuole Fare le robe su instagram È inutile Perché tutta la gente È sempre lei che dice Oh raga Sto divestando Sto devastando tutto Raga 3 kill Mi sono fatto Ho bisogno solo di cure Raga Perché ho 15 di vita Ecco porco due Raga No 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 Mi finiscono Mi finiscono Mi finiscono Pezzi di merda Raga Ho un colpo di pompa Li ho finiti praticamente Un ragazzo con il leone Da gaming Sembrava sca Cos'è il leone Da gaming Scusate un attimo Leone da gaming Ora che gli sguazzi Sguazzi droni Li voglio Li voglio Li mi curo Mi curo Raga Mi curo Anche Difficio L'amore Aspetta No mi devo Prima mettere Le bende Raga Se no Non recupero Niente Mi state dietro A terra 1 E io raga Eeeh Ottimi Devo mettere Gli sguazzi Vabbè Non l'aspettiamo Lui Aspettiamo L'aspettiamo Andiamo Usciamo Poi se moriamo Vabbè No Ho fatto 3 kill E' una partita bella Magari fare in arena 3 kill subito Vero Magari Io ne faccio Ne faccio 2 In game Con 34 persone Rimanenti Bello Questa pompa Oh raga Gli sguazzi Gli sguazzi L'angeli sguazzi Venite Aspetta 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 Prima mi tiro Le mele Aspetta Aspetta È già bevuto Io Già me la so Mangiate io Ehi Ehi Ridammi subito Poi Dio Dai Vediamo Soste robe Diamo che ci sta qua Aspettiamo il nulla Cosmico Raga ci sta un cecchino qua Venite Ne metto 3 Non siamo solo In 140 Siamo Felicemente 140 Ci stiamo divertendo Un botto Raga colpi pompa Colpi pompa Ne avete No non ne ho Non ne ho Non ne ho colpi Raga Sotto ogni colpi Non di pompa Ne ho uno in canna Avete i colpi Del cosi Non ho colpi Di niente Raga sinceramente Diciamoci la verità Ottimo Quello che ha ucciso Era da solo No erano in due Dove che è l'altro Siete solo saponi Dio Sì infatti Nadia Sono tutti saponi Dovrebbero diventare Saponi Raga Ha trovato il pompa Pi stufoso del gioco Non è essere saponi Medikit Raga che la vuole No essere di quei saponi Effettivamente E effettivamente Sì Volete legno Lì c'è l'intera casa Piena di legno Che bello Quello che dovrebbe Sera la prossima torre Di Napoli Stream Io ho 144 spettatori Ma lo capisco È ovvio che Tra andà Beh in realtà No non lo capisco Ma vabbè Oggi laghi Non è del solito Quella fa Ma non so perché Ma secondo me Lago solo quando grido Se grido Lago Eh crasha tutto quanto Il sistema Crasha Poche ma buoni Ettore Non è che bisogna essere In 10.000 E sai perché Te lo dico Perché poi la gente Si lamenta che non la leggo Se sei Posso un po' di legno È ovvio che E tutti Se siamo in 100 Riesco a leggere tutti E penso che anche a voi Faccia più piacere Però Per farvi leggere di più Dovete abbonarvi Punto Se volete giocare Tutti i vantaggi Soprattutto le moji Le moji Sono veramente fiero Delle mie moji Gente lì Io c'è ancora un colpo pompa La mia moja C'è un colpo C'è un sapore Eccola Quella di ieri E grazie agli abbonati Di ieri Che c'è le moji Del sapore Raga che ore sono Corre sono raga No è 18 Dobbiamo suicidarci No non dovete suicidarvi Allora o ce la giochiamo bene Giocatemi la bene Perché Se no Eh Octi Octi ha eliminato uno Con la trappola Quando Appena adesso Ma le hai lasciato uno All'Ande O adesso le hai trappato No l'ho trappato adesso Che forte sto ragazzo Octi aveva colpicettino Questo No ma Una cosa che mi fai Nevevo dire di me È curioso Raga aveva colpi pompa Qualcuno perché Oh raga ci sta un cispuglio Ci sta un cispuglio Eh l'ho visto Dove 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 Qua sotto la scala Ucciso Ma siete dei gay Siete Poverino Dovevamo trapparlo Siete proprio dei pino Raga colpi pompa Colpi pompa raga Razzi razzi Ho bisogno di razzi E razzi zero Eccolo lì Wow guarda quanto è cattivo Poveretto bro Bro Usciamo bro Non entri nel team se no Ma Octi non mi chiudere Mannaggia a te Chiudo invece Ma se sa che vai di fianco Mentre colpa sua No noi abbiamo Preso Discritto Ah Assillata L'avete ucciso Mi stavo un colpi pompa raga Raga pure a me Devono colpi pompa Razzi Ragazzi Eeeh Zero Cento uno Dove 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 pinga Mi faccio il medici La casa là Raga pompa pompa raga pompa colpi pompa Che riesco pingarla perché c'è un alber Andiamo Octi colpi pompa Octi hai colpi pompa Perché l'ho ucciso E' morto di caduta Poi Tieni Tieni barbone Oh Guarda Non so cosa fare Per favore mi saluti I miei si sono lasciati Ah oddio mi dispiace Hanno rivarciato Emile The best spartan forever Mi dispiace davvero Mi sembrava un profugo quello che sta venendo Oh raga gente là sotto Mi sa che uno è quello che ho ammazzato No no E' una barba No raga perché l'avete sparata Ragazzi il via quella Ma dove sono Atterrato Si Shuler Shuler E' quello qua Shuler No Shuler si è attaccato Beh Ma che cazzo No vabbè 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 Raga è Shuler questo Atterrato Uno mi teneva fermo con la palla Mentre l'altro mi sparava Quello è Shuler Lo rianimo raga Atterra Arriva il suo amico Raga io ho atterrato Un in zona Atterrato Emo non so Un attimo Era un Johnny Si Non mi ricordo il cognome Corri Corri Raga ma che avete fatto Arrivano a pusharci da un altro lato Io raga C'ho le impulsi nuove No raga L'hanno rianimato Che che sta E non c'è un po' Non c'è un assalto raga Mi sono reso conto ora No raga io non posso Non posso rianimarlo eh Muoio Cosa sta succedendo in questa nostra vita Ma io muoio No io sono morta Perché c'è No 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 Non c'è un amico Non c'è un amico Vabbè grazie bro Mi metto il merito Ok se ce la fai con la spesa Se un attimo Ecco A me Un mazzato Mi scomava Di no Qualcosa No C'ho pure le persone in zona raga Ma sono cavoli per me C'ho la zona C'ho la zona e questi eh Oh mio dio Ma che cazzo Ma questo da dove è fatto Sapone Ottaviano si scrive con la Ilario No Ah io 5 kg Regale ho fatto Dai Anche io 5 kg O non ho attirato un in zona raga Ho attirato un giorno e si bosche Con la cosa alla Bravo rosy Brava rosy Brava rosy Ciao a tutti raga Allora Ti aspetta di dire una cosa Perché sono leader del gruppo? Beh che ha abbandonato Ah Vabbè Oh Ah bene Bella 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 Bella